Al Paolo Poli, Molfetta Fragolese termina con la vittoria dei campani per due reti a zero, ospiti che ottengono così la salvezza matematica impensabile fino a poco tempo fa, mentre i biancorossi dovranno giocare il play-out con un'altra pugliese, il Gravina, giocando però in trasferta al vicino e con un solo risultato su tre, la vittoria. Grande caldo e poche emozioni sul campo di Molfetta, Renato Bartoli schiera il 3-5-2, dall'altra parte mister Sergio Buono risponde con il 4-3-3. Inizio timido delle due squadre, poi la Fragolese prende campo dopo una punizione pericolosa al decimo di Celiento, pallone che attraversa l'aria ed esce non lontana dal palo, i campani passano al quattordicesimo, Celiento crossa in aria e trova la testa di Padulano, pallone che supera la linea di porta e 1-0 per gli ospiti che festeggiano. Il Molfetta ha l'occasione per rispondere al diciottesimo, ma Romeo, dopo buon aggancio, non riesce a finalizzare. Proteste anche per una trattenuta del portiere avversario, tutto regolare per il direttore di gara. A venticinquesimo, brutto infortunio per avvantaggiato, costretto ad uscire in barella, Bartoli al suo posto fa entrare Cianciaruso. Partita che prosegue nell'anonimato, poi nel recupero del primo tempo il Molfetta prova ad affondare, 45esimo, calcio di punizione da tre quarti, Longo serve Vivaacqua che prova la girata, conclusione debole, pallone preda di Provitolo. Stesso esito, due minuti più tardi, con il colpo di testa di Lobbianizze su calcio d'angolo, ancora brividi per i campani. Al 49esimo, Stasi però non ci mette abbastanza cattiveria, l'azione sfuma e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Nella ripresa, Bartoli rivoluziona la sua squadra con un triplo cambio, dentro di a me Cordice Martino, modulo del Molfetta, che passa 4 dietro e appesantisce il comparto offensivo. All'undicesimo su corner per i padroni di casa, De Gaulle ci prova di testa ma non inquadra allo specchio. Al 14esimo, Pasticcio di Provitolo che non trattiene il pallone, Cordice prova ad approfittarne, la difesa libera in affanno. Passano pochi secondi e la Fragolese si ributta in avanti, Cialiento si accentra e calcia, pallone leggermente deviato che sfiora il palo, terminando in corner. La controrisposta del Molfetta al sedicesimo è affidata, Longo, conclusione però centrale, al 24esimo ci prova Vivacqua, su punizione Provitolo si rifugia in angolo, dallo stesso corner, Zagaria di testa è impreciso. Molfetta che tiene il pallino del gioco, lasciando però spazio le ripartenze avversarie, al 32esimo ne paga una a caro prezzo, Mancino trova lo spazio e si invola verso la porta, De Gaulle è costretto a fermarlo così. Fallo da ultimo uomo, il rosso diretto, Molfetta in dieci uomini ma non ancora domo, al 42esimo occasione in aria campana, prima conclusione di Cianciaruso respinta, altro tiro ribattuto, al 48esimo Cianciaruso ci riprova questa volta dal limite, portiere che blocca la sfera a terra, poi al 50esimo la Fragolese chiude la pratica con Mancino che trova spazio e tempo per concludere in porta, 2-0 e cale il sipario sul match del Paolo Poli, a Fragolese salva per il Molfetta, ora è tempo dell'ultimo atto, quello decisivo, il play-out contro il Gravina in trasferta, ultima chance per non tornare in eccellenza.